Musica Immaginiamo ora un pilota più aggressivo, un pilota che ci consenta di ottenere una shell sulle serve remoto Questo è un frammento di codice PHP sufficiente a realizzare lo scopo Per iniettarlo al solito dovremmo calcolarne la dimensione Dovremmo eseguire con il nostro netcat un put su un percorso a partire da slashdav Immaginiamo un nome di file shell.php, il file che vogliamo iniettare Questo sarebbe sostanzialmente la richiesta che dobbiamo formare Visto che è abbastanza articolata, non la farei più con netcat Ma passerei a uno strumento più semplice, a questo punto abbiamo capito qual è la meccanica dei metodi E utilizziamo un più comodo comando churl che ci consente di dare un URI su cui agire E in questo caso eseguire una put con l'opzione upload file Prendendo un file in cui avremo trascritto effettivamente il contenuto di questo payload Ora per risparmere tempo ovviamente il payload l'abbiamo già trascritto in un file shell.php Eccolo qua, non ci resta che trascrivere questo con put attraverso churl RTP, due punti slash slash, l'indirizzo Il percorso, il nome del file, quindi l'URI completo E l'opzione upload file che indica sostanzialmente di eseguire la put Quindi shell.php il file che deve essere preso Il nome coincide Ed ecco qua, l'esito con successo di churl ci dice che tutto è andato bene Come vedete non abbiamo il risponso, l'ha catturato churl e l'ha dedotto lui Per lui è tutto a posto, non ci ha segnalato nulla Quindi sicuramente avremo ottenuto la risposta positiva dalla put A questo punto non ci resta altro che sperimentare qualche comando Magari anche con churl stesso Quindi churl Indirizzo dell'obiettivo Il percorso fino alla risorsa E a questo punto dobbiamo mettere il parametro cmd E come programma, tanto per cominciare Farei una cosa abbastanza semplice Uptime Come vedete Ovviamente siamo in console C'è dell'html che ci sporca un po' l'out Ma questo è l'output del comando Uptime Ovviamente lo faccio anche sulla Kali Questo come vedete è lo stesso Chiaramente siano gli output di due macchine differenti Però abbiamo visto che questa è l'esecuzione di questo comando Vediamola dal punto di vista del browser Per avere idea dell'incidenza di questi tag HTML in questo formato Eccolo qua Come vedete il font a larghezza fissa Facciamoli qualcosa di più complesso Scriviamo ip address ADDR Sufficiente Lo riconoscete? Stiamo sostanzialmente eseguendo comandi su una bash Da remoto Ovviamente questo lo sapevamo Ma questo magari era un po' più difficile Stiamo eseguendo un programma dall'interno del sistema operativo Da una bash Quindi possiamo spaziare dappertutto Grazie a tutti